Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi E poi innanzitutto Forza Lecce Forza Lecce domani Monza Ladro non deve assolutamente andare in conference Un toro di cui si potrebbero spaccare i titoli Buonanotte ragazzi sono Daren Quattolo Youtuber ufficiale del Torino FC Buonanotte Spezzine Iscrivetevi a questo canale Perché comunque sia porterò anche Contenuti dello Spezia No non voglio prendervi in giro Però questo lunedì in live Ospite Peter Jova Peter Jova Youtuber dello Spezia E di conseguenza quindi in questo senso Un contenuto dello Spezia ci sarà Iscrivetevi a questo canale Anche voi del Toro O voi di qualsiasi altra squadra Qua si portano pre-gara Post-gara Altri tipi di video Live Etcetera Quando dico che la qualità paga Ok Questo vuol dire Era una squadra Appunto lo Spezia Che doveva lottare Per me rimane comunque Lo Spezia di semplici Quindi voglio dire Poi tra l'altro noi con la formazione titolare Dovevamo vincere Detto ciò però Ha segnato Ricci Ilic E quindi la qualità Siamo arrivati lì con la formazione titolare Quando ho visto la formazione Ho visto che c'era Che c'era Miranciuk Ho visto che c'era Buongiorno Schurz Insomma tutti i titolari Nel senso Ricci e Ilic Mi sono detto Bisogna assolutamente vincere Sicuramente non avrei contemplato Una non vittoria Ha vinto la qualità Una qualità assolutamente maggiore Quella del Toro In questo senso c'è ben poco da dire Jazzy veramente un Maranza Io Ecco Alcune cose del calcio Non le capisco Ma fatemi capire Adesso non ho guardato bene Ma Jazzy è stato ammonito C'è nel senso Jazzy a un certo punto Nel primo tempo Ditemi se sbaglio In questo no Che non ho sbaglio A un certo punto Nel primo tempo Cosa ha fatto Ha Praticamente Ha spinto Schurz Per terra Ma assolutamente In un momento Avulso dal gioco Ha preso L'ha spinto per terra E ha caduto Schurz Un signore Un signore Non ha reagito Lo prendevo Lo alzava Per fortuna Non ha reagito Io non sono per la violenza Io mi chiedo Ma se non vengono Sanzionati Con cartellino giallo Questo tipo Di cose Cioè se non vengono Sanzionate Con cartellino giallo Delle spinte Che portano a cadere Nei giocatori In un contesto Totalmente avulso dal gioco E c'è solo Un richiamo verbale Per entrambi Il posto Che in effetti Non ho visto Sinceramente Cosa Schurz Ha fatto Per suscitare In Jazzy Maranzissimo Oggi veramente Rompeva il cazzo A tutti E' riuscito Poi a rompere Il cazzo Quando Sti coglioni Tifosi dello Spezia Tiravano le bottiglie Quello che è Comunque A Savic A rompere il cazzo Perché sosteneva Che stava perdendo tempo E che doveva essere recuperato Ma sei rincoglio Cioè veramente Ma sei impazzito Comunque Jazzy Non ha ammonito Jazzy non ha ammonito Dopo aver spinto Per terra un avversario Queste cose qua Anche se il risultato È stato 0-4 Anche se non è influito Non mi frega un cazzo Cioè sono cose Che io non capisco E mi stanno sui coglioni Cioè Poi magari è stato ammonito E non l'ho visto Forse magari me lo son perso Ma non mi pare E' una cosa che veramente Una cosa che veramente Non contemplo Un toro che Fa valere la sua superiorità Diciamo In realtà Non in tutte le fasi Del gioco C'è stato un momento Una fase di gioco Mi parla del secondo tempo Nel quale in realtà Lo Spezia Per un attimo Non dico per esempio Niente la mano del gioco Ma È riuscito In realtà dall'inizio Lo Spezia è riuscito A far sì che il toro Non giostrasse la palla E non la macinasse In stile monodobiacco Come al solito Infatti lo Spezia Ha adottato un grandissimo pressing Infatti all'inizio La partita Non era per niente Così netta Da un certo punto di vista Perché comunque Era stato uno Spezia Che è stato molto abile A mio avviso Nel pressare il toro E non permettergli Di fare più di tanto Quello che è il suo gioco Ovvero un gioco fatto Di tantissimo possesso palla Nonostante questo Il toro È comunque venuto fuori Nel palleggio Nel palleggio Con la qualità Che ripeto Un'altra volta Come dico sempre In questo caso Questa stagione Non si può dire Non ci sia Al di là degli anticanerismi Nella rosa del toro E negli effettivi del toro Uno Spezia All'inizio Che appunto è stato bravo In fase di non possesso palla Con pochissima Con poca qualità In fase di possesso palla Se non spito Da uno Zola Che in maniera leale Ha cercato di trascinare Lo Spezia Fino all'ultimo Zola si spera Che venga il toro E di un Giasi Veramente maranzissimo Un Giasi Che ha rotto il cazzo Dal primo All'ultimo minuto Un toro che appunto Riuscire ad andare in vantaggio Con questo gol Di Singo Un singo Un singo che non lo so Non tornerà mai Il singo dei tempi Ma un singo Che è riuscito a mettere Una certa propulsività Una certa voglia Per poi incappare In alcuni errori Come al solito Di base Cross sbagliati Tiri più che altro Loffi Nonostante si sia preparato bene Più di un'occasione Il tiro Primo tempo quindi Nonostante tutto In cui lo Spezia Non ha fatto nulla Appunto Caratterizzato da Un'amaranzata totale Questa cosa Non la smetto di dire Perché veramente Questa cosa Non l'ho capita Di Giasi Impunito Che va a spingere Schurse dal nulla Un secondo tempo In cui Il Torre è riuscito Di più A fare un certo tipo Di possesso palla Anche se appunto Fino al Cos'è No in realtà Fino al 2-0 Non dico I primi 10 minuti Del secondo tempo Sono stati 11 minuti Che ho visto in maniera Un po' Un po' Vaga forse Perché stavo mangiando Non mi ricordo Comunque Semplicemente Quei 10 minuti Del primo tempo Non lo so Forse uno Spezia In generale Comunque che Prima del 2-0 Di Ricci È riuscito In qualche modo A contenere Forse il Torre Diciamo Sì Ah beh Il primo tempo È stato attraverso Di Mier Poi con il 2-0 Di Ricci La partita Ha subito Una inclinazione Favorevole Per il Torre Che lo Spezia Non è mai riuscito In nessun modo A riportare Sui propri Binari In sostanza Ripeto La qualità La qualità Di Ricci La qualità Di Ilic Che c'è stata Dall'inizio Della partita Con questi suoi Solfeggi Un Ilic Che solfeggia Un Ricci Anche di quantità E un Vlasic Attenzione Pure in Vlasic Doppio assist C'è una grandissima Qualità Io devo spezzare Una lancia A favore dello Spezia Nonostante Mi sia su un cazzo Giazi Anche semplice Continuiamo a rompere Le palle Il tempo Bisogna recuperarlo Però effettivamente Una cosa che mi sta Sul cazzo Lo dico anche In questo caso Contro il Torre In un certo senso E sa cosa del VAR Cioè nel senso Tu hai fatto Lo Spezia ha fatto gol Era poi fuori gioco A me non sembra Era fuori gioco Ok Non ci puoi mettere Tutto questo tempo Far perdere Tutto questo tempo Lo Spezia Che dal suo punto di vista Giustamente Deve rimontare Per poi Per poi far andare L'arbitro E sarà stabilito Che era fuori gioco Devi stabilirlo tu A questo punto Cazzo Tra l'altro Poi secondo me Ripeto Va a mio favore Però secondo me 6 minuti di recupero Con tutti i cambi E le interruzioni No Se era andato a dare Almeno 8 Sinceramente Lo dico ripeto A svantaggio mio Ma era andato a dare Almeno 8 minuti di recupero Ripeto Secondo me Non c'era fuori gioco Poi ho visto Dalle immagini Che dalla grafica C'era Però nonostante tutto Era una Da dare più minuti di recupero E due Ci devi mettere A meno tempo Con sto cazzo di VAR Entra Caramò Fagol Poi pure Caramò Poi si mangia Sanabria Poi fa gol Annullato Ma secondo me Giustamente Effettivamente C'era il fallo Sul difensore Sul difensore Dello Spezia Quello si Secondo me Questa è stata una prova In realtà Iulice Zitto zitto Quando in realtà Ha dichiarato Sui giornali Visto un titolo Divertiamoci Mi parla Abbietto così Non so In realtà Ho intervisto Questo titolo Non so Sarà nel pre Spezia Torino Nel post Sampdoria Torino Perché ho visto Il mitico Pellegri Che in foto Che stava facendo L'esonanza Della Pellegri Non lo so Però secondo me Questo 0 a 4 In realtà Fa capire una cosa Ovvero che il Toro Ci crede Comunque un Toro Che è indubbiamente A qualità Lo Spezia Comunque si è cercato Di mettere Una certa propulsività Ma il Toro Comunque oltre alla qualità Ha messo anche una certa voglia Devo dire Però comunque andare a fare Poi anche il quarto gol Giocare fino alla fine Nelostante tutto Secondo me vuol dire Che il Toro In realtà Nello spogliatoio Non lo so Poi non lo so Cioè in realtà Io dico tutto Controli tutto Perché fino a ieri Stavo dicendo Che nel Toro Non c'è spinta In questo caso Il Toro Il Toro ce l'ha Secondo me Per me Il Toro Quando gioca in casa Perché quando gioca in casa Ha questi tifosi del cazzo nostri Che sono tutti alle grotti Quando gioca fuori casa Infatti familiari dei punti Cioè guardiamo L'ottimo statistico Fuori casa Il Toro Veramente Dacebios League Cioè le sta vincendo tutte Fuori casa Le sta vincendo veramente tutte Fuori casa Il Toro Ha fatto una maria di punti Ma secondo me Non so in qualche modo Ha a che fare con questo clima del cazzo Del tifoso del Toro medio Che è un clima Che è un Che è un Che è un Che è un Non tifo Un In ogni caso Il Toro si esalta Quindi Quindi bene così Ripeto Era pur sempre Lo spezia di semplice Voglio dire Però Nessuna presa scontata Era comunque Doveva salvarsi Ok Però il Toro Ha fatto capire Che evidentemente C'ha un obiettivo Iscrivetevi al canale Guardatevi le live Precedenti Questo lunedì sera Ripeto in live Con engine Vogliazzi Luxflow Ospite Peter Giova E anche ospite Stenic Youtuber Juventino Ci parlerà dell'inchiesta Prisma Le penalizzazioni Eccetera eccetera Faremo un post Di Spezia Torino Ma anche un post Di Juventus Milan Tutti insieme Per qua Dare in 4 L'arcobaleno Dare in 4 E inclusivo Iscrivetevi al canale Ditori alle vostre suocere E ai vostri amanti Cari miei spezzini È data così Io non ce l'ho con lo spezia Però veramente Un jazz Che veramente si comporta In una maniera A mio avviso Inqualificabile Il Toro Che effettivamente Ha una certa spinta Domani farò Le pagelle Mi dimentico sempre Qualcosa da dire In questa mia rutilanza Qualcosa da dire Non lo so Mi raccomando Diamo un senso A questo canale Perché la crescita C'è a livello di numeri Ma è lenta A 1100 iscritti Un avvenimento A mio avviso Oggettivamente Epocale Poi valuterete Voi